Siu, 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 quando vieni le calze su, ci ne quattro spavazzati, ti facevo peratati, ci ne quattro macchiazetti, ti faceremo perisetti. I appallati, i appallati, uomini stette e marinati, e si appallati, voli lunghi, cante lunghi. I appallati, i appallati, uomini stette e marinati, e si appallati, voli lunghi, cante lunghi. Siu, 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 quando vieni le calze su, ci ne quattro spavazzati, ti facevo peratati, ci ne quattro macchiazetti, ti faceremo perisetti. A Vicenza! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Alla prossima giornata è www.mesmerism.info come la danza e nel eserario grazie molto spero se diviertan e noi vediamo in questi giorni se diviertan Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì.